Che già l'ha invitata a disoccupare le strutture occupate pubbliche, lei come risponde? Dobbiamo distinguere, per quanto riguarda l'invettiva che gli lancia ai centri sociali, gli voglio ricordare che lì non c'è nessuna occupazione illegale, si tratta di movimenti collettivi che in città fanno un lavoro egregio, che lo Stato dovrebbe sottolineare con positività ed è talmente un lavoro egregio che ci sono delle delibere in cui si dà valore giuridico, sociale e anche di contrasto all'illegalità da parte del Comune, quindi non si tratta di occupazioni, quindi su quello può stare tranquillo e ci sono delle delibere. Se invece Salvini ci vuole aiutare a sottrarre alla camorra l'appetibilità di edilizia popolare pubblica, ovviamente non solo condividiamo questo ragionamento ma lo stiamo facendo da soli da tanti anni con un lavoro importante, cito un caso per tutti e tra i casi più difficili, il lavoro che stiamo facendo sull'edilizia popolare, sugli alloggi, sulle vele, nel progetto Bando per le Periferie, ricordando a Salvini che il governo un atto concreto già l'ha fatto molto importante, ha tagliato un miliardo e mezzo di euro per le periferie, compreso le periferie dei nostri territori, quindi respingo al mittente la provocazione. Napoli è una città vitale, c'è una grande partecipazione dal basso, io ringrazio tutti i cittadini, giovani, meno giovani, anziani e meno anziani, che anche quando le istituzioni non arrivano, anche quando i privati abbandonano alla merce del degrado luoghi privati, si sono presi in carico di riqualificare e curare il nostro territorio. Se non ci fosse stata la cittadinanza, se non ci fossimo stati noi, con quello che hanno fatto i poteri centrali in questi anni, per non parlare dei governi regionali, la città altro che vitalità sarebbe stata una città assolutamente depressa da ogni punto di vista.